Musica Arrivano i fondi per il recupero e ripristino delle imprese agricole vittime dell'alluvione del settembre 2014 ad annunciarlo l'onorevole Colombo Mongello, componente della Commissione Agricoltura della Camera che dichiara che le imprese agricole foggiane colpite dall'alluvione potranno accedere al fondo di solidarietà stanziato dal Governo Ora arrivano i fondi straordinari per la calamità naturale a vantaggio di chi ha visto finire sott'acqua piante e alberi Precisa Mongello, chi aggiunge tutte queste misure sono state attivate anche grazie alla capabilità con cui i parlamentari pugliesi del Partito Democratico hanno sostenuto le regioni del territorio foggiano, ottenendo dal Governo prima l'attenzione necessaria e poi una quantità di fondi adeguata ad affrontare l'emergenza Vieste per tre mesi è stata affidata la raccolta dei rifiuti all'Ase di Manfredonia Con ordinanza sindacale convingibile ed urgente l'amministrazione comunale di Vieste è ordinato alla società Ase con sede in Manfredonia a provvedere alla gestione del servizio di igiene urbana e servizi complementari per tre mesi nell'emore delle individuazioni del gestore unico in ambito dell'Arofoggio A1 e dell'ingresso del Comune di Vieste nel capitale sociale della società in house Ase S.P.A. agli stessi pasti e condizioni del contratto da patto attualmente in essere con la società SIECO S.P.A. Il corrispettivo si aggira a 2.856.000 euro l'anno compresi gli oneri per il trasporto in discarica dei rifiuti Manfredonia tappa del veliero d'epoca Dolphin by Assonautica Lunedì 14 settembre fa la tappa a Manfredonia alla Marina del Gargano il veliero d'epoca Dolphin di Assonautica italiana da Brindisi a Venezia imbarca vela spinni dal vento e dalle correnti sulla rotta che porta alla Serenissima un viaggio che rievoca avventura, storia, passione e poesia viaggiando sull'onda di un antico veliero tutto questo è l'Adrion Venice 2015 l'ultimo progetto nato in Cassa Assonautica italiana la struttura di servizio di Union Camera italiana per la promozione e lo sviluppo del diportismo nautico e dell'economia del mare un prestigioso bialbero a vela con a bordo un equipaggio composto di esperti marinai che è affiancato ad un blogger professionista partendo dal porto pugliese di Brindisi e passando per il Molise a Bruzzo Emilia Romagna e giungela a Venezia ripercorrendo e rievocando l'antico via mercatale nota come la rotta del sale una traversata in veliero, una vera e propria promotion alla piattaforma per valorizzare dal grande patrimonio enogastronomico dei territori coinvolti lungo la rotta che porta alla Serenissima un progetto che vuole rilanciare la via adriatica dal punto di vista commerciale, turistico e culturale Il ministro Orlando nei prossimi giorni a Monte Sant'Angelo sabato 19 settembre in occasione della festa provinciale dell'Unità e il ministro di Grazie e Giustizia Ander Orlando sarà a Monte Sant'Angelo sarà interessante proprio nella città garganica ascoltare il suo intervento in merito allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose Sport Tennis Tavolo VS Challenge 2015 dalle premesse è stato un ottimo risultato ideato da Antonio Tasso, presidente del Fit for Giabatte Nicola Ragni, il presidente della Proloco di VS si è svolto a palazzetto Omni Sport della cittadina garganica il 4 e il 5 settembre scorso la manifestazione articolata in tre giornate organizzata dall'SD Tennis Tavolo Manfredoni ha visto la partecipazione di 160 atleti per un totale di 300 iscritti alle gare la fusso è stato incoraggiato anche da una favorissima convenzione alberghiera allettando gli atleti ad una breve vacanza con familiari ed amici lo sport è collegato al turismo è un binomio vincente dichiara Pasquale Viesti, operatore turistico e presidente del Sunshine Basket crea movimento sano sul territorio e potrebbe essere lo sviluppo determinante insieme ad altre iniziative popolari per una fruttuosa destagionalizzazione ci sono state quindi a divisioni da tutta Italia quasi tutte le regioni erano rappresentanti e l'apprezzamento dei partecipanti è stato elevato sul Gargano l'estate continua a gonfie vele non solo per le giornate di sole ma anche per l'affluenza di turisti che hanno scelto le nostre località di villeggiatura in questa prima decada di settembre a Vieste e Peschici numeri da capogiro nei mesi di luglio-agosto decisamente meno presenze a settembre ma se continuerà a splendere il sole le previsioni sono ottime anche per questo ultimo scorcio d'estate a Vieste è tempo di primi bilanci e al Gargano Mare si sono riuniti per fare il punto della situazione i villaggi turistici ci racconta Mariella Nobiletti presidente del consorzio degli operatori turistici che tradizionalmente a metà settembre chiudono stanno lavorando per allungare la stagione almeno fino al 20 mentre gli alberghi lavoreranno fino a fine mese con la possibilità di prorogare tempo e prenotazioni permettendo anche ad ottobre cerchiamo di sfruttare al massimo il buon momento che stiamo vivendo e il tempo splendido che ci sta accompagnando certo, aggiunge Nobiletti lavorando per lo più con le famiglie e bambini al seguito sarebbe un bel regalo se si cominciasse a pensare di spostare l'inizio delle scuole al primo ottobre come si faceva qualche decennio fa il consorzio Gargano Mare è già al lavoro per la programmazione 2016 in programma già ad ottobre la presenza in alcune fiere sia in Italia che all'estero siamo già al lavoro conclude Mariella Nobiletti per fare in modo che la prossima stagione sia all'altezza di questa e riporti Vieste e Tutti il Gargano ai primi posti delle classifiche delle mete più gettonate Grazie a tutti